è così la vita ragazzi, io non posso farvi vedere ora perché sono tardi tardissimo, che ore sono? che ore sono ragazzi? speriamo che non chiama la signora, sennò non posso rispondere speriamo non chiama aspetta rosso, qua non posso, non c'è la macchina, non c'è la macchina, non posso attraversare ok, l'acqua è meno male, verde meno male ok Johnny aspett o l'olio filmare un po' ecco l'acqua, faccio vedere di nuovo la mia pancia guarda come fai, sono sudata sono sudata sono sudata sono sudata ok gira giro di nuovo 16 viewers mi piace mi piace perché vediamo un minuto un po' inota mi piace Ok, ragazzi. Ok, ragazzi. Quasi, quasi. Forse cinque minuti arrivo. Five minutes only forse. Che bella questa macchina BMW. Che bella questa macchina. Allora, ragazzi. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Quanti ho, sono? 24. Ah, quasi uguale. Perché io camminavo veloce, troppo veloce. Ah, quasi uguale come altra volta. 24 minuti, 25 minuti. Così. Troppo veloce. Bravo, bravo. Ma vedi? Perché io ho fermato là pure. Grazie. Grazie. Bye, ciao, ragazzi. Can собraz inhanyo? Guys Ciao a tutti Grazie mille Grazie mille a voi Per a cui panierne Sinamahe nyo ako Habang ako papunta dito Thank you so much again Love you all Love you love you all See you tomorrow See you tomorrow After you Okay Thank you